Inaugurati i Gigli Shopping Bus, il servizio che permette di spostarsi dalla stazione di Santa Maria Novella ad uno dei centri commerciali più visitati d'Italia, i Gigli a Campi Visenzio. Il trasporto, che ha preso il via il 27 novembre scorso, ha già dato i primi risultati. L'accordo nasce in collaborazione con Bus Italia e Cap Autolinea. Finalmente rispondiamo alla richiesta di molti clienti che in passato chiedevano questo tipo di servizio e ci permette un collocamento piuttosto rapido. È un servizio che forniamo ogni giorno della settimana, compreso sia feriali che festivi, in funzione di corse e fasce orarie, a disposizione sia di clienti ma anche di dipendenti del centro commerciale. Il servizio sta dando ottimi risultati, abbiamo delle medie di visitatori, ad oggi oltre 4.000 clienti, passeggeri hanno soffritto del servizio, con medie giornaliere piuttosto elevate, ma l'obiettivo è quello proprio di rivolgersi a tutti coloro che, o per motivi che non sono patentati, non hanno voglia o necessità di prendere l'auto, o anche tanti stranieri, di prendere lo shopping bus e venire al centro commerciale. L'immediatezza quindi di trovare un autobus adiacente alla stazione di Firenze-Santa Maria Novella è per noi un plus, quindi permette di raggiungere il centro commerciale totale comodità in 35 minuti circa. Quindi ci aspettiamo anche un incremento di turisti, quindi sia italiani, stranieri, appunto cittadini nell'area fiorentina, che attualmente avevano dei servizi ma non diretti e dedicati come quello dei gigli shopping bus.